Le tre università calabresi con in testa l'Unical si mettono insieme e ottengono sui fondi PNRR un finanziamento con il quale per tre anni si farà ricerca e sperimentazione ad altissimi livelli nel settore dei beni culturali. Come sito pilota viene scelta la Villa Romana di Casignana. Nel progetto si vedranno impegnati sul campo docenti e ricercatori di livello, ingegneri, archeologi, biologi e restauratori, tutti insieme in un progetto condiviso. Sul progetto il vice sindaco di Casignana, Franco Crinò, ha messo in evidenza due aspetti. La necessità innanzitutto di fare finalmente rete, ma in modo serio, in un progetto integrato sull'archeologia romana della Locride, che mette assieme il Casino Macri a Locri, la Villa dell'Aniglio a Gioiosa Ioniche, il Teatro Romano a Marina di Gioiosa e a Portigliola. Crinò ha messo poi in evidenza come è importante realizzare un collegamento immateriale tra la villa e il borgo di Casignana, partendo dall'elemento più importante, la villa, ma senza dimenticare le altre peculiarità del territorio.